Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, benvenuti in questa morning routine primaverile che non vedevo l'ora di filmare Guardate un po' chi c'è qui, la piccola Sofì che si è svegliata da pochissimo ed è super dolce Buongiorno piccolina, buongiorno, lei è qui con il suo coniglietto, con il suo dudù Hai dormito bene, stanotte ha fatto la brava, invece il suo fratellino si è svegliato un po' di più, infatti al momento è ancora addormentato, sta recuperando È vero, cosa facciamo di bello oggi piccola? Beh intanto aspettiamo che si svegli il fratellino Per prima cosa preparo il latte per la piccola Sofì, è la cosa migliore da fare intanto che Angus dorme ancora Altrimenti poi devo dar da mangiare entrambi contemporaneamente ed è un po' un problema Anche perché Sofì beve ancora il latte, mentre invece Angus ha già iniziato con le pappe Allora, scegliamo un biberon per Sofì Penso di utilizzare questo che è sempre uno dei miei preferiti Fatto con tanto amore Scegliamo una bavaglia per la piccola Sofì Solitamente per lei utilizzo le bavaglie più piccole Visto che lei è ancora piccina Queste sono decisamente più proporzionate Ad esempio guarda che carina questa con il gattino e tutti i palloncini Ne prendo direttamente una anche per Angus Così da averla già pronta per quando si sveglierà Questa è perfetta per lui con il dinosauro Ed è a forma di bandana, molto carina Mettiamo la bavaglia Eccola qua La piccola Ti è affamata Sofì? Cucciola La che mangiamo? Sei pronta? Arriva il latte, arriva il latte Lei tutta contenta Sì, sì, è qui, è qui Guarda, guarda un po' Aspetta, aspetta Che ci sistemiamo bene So che adesso hai visto il biberon E sei tanto affamata Ecco qua Perfetto Guarda, guardale qua È qua Pronta? Ecco Ma che buono Ma che buono questo latte Sofì è molto affamata la mattina È vero Fai sempre una grande colazione tu, eh Piccola Mi aiuta quasi con la manina a tenere il biberon Sì, sì, ecco, ecco Tutto tuo Tutto tuo, Sofì Buono? Basta, Sofì È finito, amore Finito Basta Ha letteralmente bevuto tutto Brava, Sofì Brava Brava che hai fatto colazione Aspetta che ci puliamo un po' Ma ecco qua Ok Momento del ruttino Tra l'altro guardate quanto sono cresciuti i capelli a Sofì È piccola Ha un sacco di capelli adesso Non sbrodolare Aspetta che mettiamo meglio la bavaglia Ok Perfetto Non si sa mai Nel frattempo mi sa che ho sentito qualcuno qui Di chi sono questi bei piedini? Di chi sono questi bei piedini? Ma buongiorno Angus Finalmente sveglio Ciao piccolo Finalmente si è svegliato anche lui Che come vi dicevo stanotte mi ha fatto un po' disperare Non ha fatto tantissima nanna Ma ha recuperato un po' stamattina Però spero che oggi non sia troppo capriccioso È vero Magari facciamo un pisolino in più oggi nel corso della giornata Sperando che poi dorma stanotte Però noi ci proviamo lo stesso Buongiorno piccolo Buongiorno Questo non serve più Buongiorno Guardate che bel pigiamino che sta indossando Il pigiamino bed and breakfast con il cocodrillo Mi piace un sacco per lui E qui c'è anche il suo dudu È vero Il tuo piccolo dudu a forma di ippopotamo Allora adesso preparo la colazione anche per Angus Prima che inizia a disperarsi Solitamente anche lui si sveglia parecchio affamato Nel frattempo metto Sofì nella navicella Ecco qua Ha già fatto il rottino E quindi sono tranquilla Poi le ho alzato leggermente la tessolina con un cuscinetto Ok cercavo proprio questa E fisso questa giustrina alla navicella Così intanto lei si intrattiene un po' Guarda i suonandi che girano Le piace tantissimo Ok eccola qui Adesso non resta che fissarla alla navicella Guarda cosa ti mette mamma Guarda Sofì Allora la mettiamo qua Ok Che bella Ok La piccola è assolutamente incantata Ma che bello Sofì Che belli questi giochi che girano Ok lei sta tranquilla qui mentre mi occupo del fratellino Andiamo a fare colazione Angus Una delle tue primissime colazioni da grande Andiamo Ecco qua Vieni piccolo ometto Ecco qua Angus pianino Fai passare le gambine Eccoci Angus nel seggiolone Ma che sguardo da sonno piccolino Sembro io la mattina quando mi sveglio per andare al lavoro Piccolo è presa dalla mamma La mattina ci metti un po' a carburare Comunque devo dire che lui ci sta davvero benissimo nel seggiolone Ormai è un bimbo grande E infatti abbiamo iniziato con le pappe Pappe di frutta per il momento Ma come ci arrivi bene alla pedaletta qui Che peraltro è regolabile Mi sembrava super distante in questa posizione ma invece va benissimo Angus è proprio cresciuto Mentre gli preparo la colazione lui sta qui Gioca un po' con il suo dudù e aspetta Qui all'interno tengo tutto l'occorrente per il momento della pappa Adesso cerco un piattino Come cucchiaino utilizzo questo che è uno dei più piccoli E come ciotolina possiamo utilizzare questa Super carina con la girofina all'interno Questa è la colazione del piccolo Angus Semplicemente metterò il contenuto di questa confezione nel piattino Perché lui non può ancora bere da qui Però è una specie di omogenizzato 100% frutta 4 frutti Ecco qui Mettiamone un po' all'interno del piattino Come vedete ha la stessa consistenza dell'omogenizzato Infatti preferisco darglielo con il cucchiaino Ecco qui Lui mangia ancora poco Solo qualche cucchiaino Dunque il resto per ora lo metto in frigo Vieni Angus che mettiamo la bavaglia Dai che tra poco si mangia Sei contento? Ehi Angus Cucciolo aspetta che sistemiamo bene qua Altrimenti si sbrotola tutta la tutina Ecco qua Perfetto Angus Piccolo Sei pronto per la pappa? Pappa alla frutta Am Am Bravissimo Bravissimo Angus Vogliamoci un po' Ecco Ecco qua Fai vedere che anche tu mangi tutto Am 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 Bravo Bravissimo Bravo piccolino Ma è un altro cucchiaino? Am Am Guarda che arriva la frutta Buona la frutta Am Bravissimo Come vedete Come vedete ha quasi finito tutto Am 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 Piccolo Angus Dopo la colazione Guarda un po' Angus Senti 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 E anche di scegliere i loro outfit per oggi Tra l'altro in questi giorni sta iniziando a fare davvero super caldo Per fortuna abbiamo fatto il cambio armadio settimana scorsa Se non avete visto quel video lo trovate sul canale E tra l'altro ieri mi è arrivato l'ordine che ho fatto sui CNM per il loro fratellone Danny Ve ne parlavo sempre nel video del cambio armadio Ho messo le cosine qua perché volevo farvele vedere al volo Sono troppo belle Allora abbiamo preso calzini corti Questi qui di vari colori perfetti per l'estate E sono grandissimi perché Danny è grandissimo Gli ho preso il 1921 e gli vanno bene Poi gli ho preso questa tutta smanicata che mi fa impazzire Eccola qui E' fatta in questo modo ed è enorme Sembra veramente super gigante ma in realtà gli va bene anche questa Carinissima con tutti i bottoncini sul davanti E sotto è fatta così Taglia 92 Un anno e mezzo, due anni E infine gli ho preso i pigiamini Questi sono di The Mandalorian Non so se avete visto la serie Comunque mi piacciono un sacco Allora il primo è questo Sono pigiamini spezzati da bimbo grande Quindi magliettine e pantaloncini La prima è così E questi sono i pantaloncini uguale alla maglietta L'altro invece è questo Carinissima questa magliettina Con il pantaloncino tutto bianco Un ordine super primaverile ed estivo Non vedevo davvero l'ora di questa stagione Sofì si stava lamentando un pochino Era un po' irrequieta Quindi ho deciso di prendere il suo ciuccio Così sto qui tranquilla ancora un po', spero E nel frattempo posso prepararle il suo outfit Cosa mettiamo oggi Sofì? Sì adesso ti prende subito la mamma Hai ragione, hai ragione Adesso ti prende la mamma E ti prepara per la tua giornata Ecco qua Rimettiamo la giostrina in posizione Perfetto Vediamo un po' che vestitini mettiamo oggi Questi sono due dei ripiani dei maschietti E penso di trovare qualcosa qui Per il piccolo Angus Vedo già questa magliettina Che sinceramente non penso di avergli mai fatto indossare O al massimo penso di averlo utilizzato una volta È molto carina con il dinosauro Potrebbe mettere questa Con un paio di jeans magari Questi anche se sono un pochino scuri Oppure potrei abbinarla a un pantalone tipo questo Un pantalone della tuta con le righe Carino, cosa ne dite? Questo mi piace un sacco Qui invece ci sono i pantaloncini delle femminucce O comunque quelli un pochino più neutri E devo dire che sono tentata di mettere un paio di leggings a Sofì Però allo stesso tempo vorrei provare a vestirle in modo un pochino più particolare Qui ci sono delle mutandine estive Che ho intenzione di utilizzare in modo un po' diverso dal solito Vediamo come andrà questo esperimento Eccoci qua piccola Sofì Allora togliamo questo Vieni qua E la mamma ha scelto un outfit bellissimo per oggi Guardate un po' chi c'è sul fasciatoio Allora Sofì è pronta per essere cambiata E qui ho sistemato tutto sulla cassettiera Ci sono i suoi vestitini Quelli di Angus E anche tutti gli accessori che ci servono Se vedete un paio di scarpe in più del dovuto Beh è perché sono indecisa tra due paia Vieni pulcina Allora togliamo subito la tutina Questa tra l'altro comodissima Perché si apre interamente O proprio interamente Sia da un lato che dall'altro Quindi ci mettiamo davvero pochissimo E cambiamo subitissimo il pannolino Anzi lo cambio così almeno Le tengo le braccia coperte per il momento Cambiamo il pannolino piccola Eccoci qua Perfetto Cos'è guardi Sofì? Cucciola Comunque con il ciuccio super tranquilla Si è tranquillizzata Ok Comunque quest'anno vorrei cercare Dei nuovi bodi a maniche corte Da tenere come intimo Devo vedere un pochino Cosa trovo Adesso mettiamo la calza maglia Penso che abbiate capito ormai Come sarà il suo outfit Io non vedo l'ora di vedere la vestita Visto che è un vestitino Un pochino più sfizioso del solito Ecco qua Calza maglia a costine Mi piace tantissimo E adesso mettiamo sopra la mutandina Per quanto riguarda le scarpine Come vi dicevo Sono molto in dubbio Tra queste E queste Quindi le proveremo entrambe Iniziamo da queste blu Vediamo un po' come stanno Come stanno con l'outfit Ok Mettiamone una blu E una bianca e rosa Questa è quella bianca e rosa Molto carina E questa è quella blu Bellissima anche lei Sono super indecisa Sono entrambe carinissime Però a vederle così Penso di preferire quelle blu Semplicemente perché staccano di più Con la calza maglia bianca Fatemi sapere quali avreste scelto voi E adesso è ora di pettinare un po' questo pulcino Tutto spettinato È vero Sofì? Ma ecco Pettiniamoci bene Ma guarda che signorina Ora le metto il fiocco Ma guardate che carina È adorabile Eccola qui La piccola principessina Mi piace un sacco vestita così Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate E tu Sofì cosa ne pensi? Ma che fiocco grande Tra l'altro quando l'ho ordinato Non pensavo fosse così grande Ma lo trovo davvero bellissimo Ma quanto è carina questa cucciola Ecco qui anche piccolo Lo metto dopo il cambio del pannolino Adesso rilacciamo il body Ecco qua Dai che ci cambiamo subito Che Sofì per il momento Mi sembrava tranquilla Però Non vorrei metterci troppo Perché poi lei Inizia a cercare attenzioni Giustamente Quindi ci cambiamo Velocemente Come ho fatto anche con lei Tra l'altro Angus Oggi è stato tranquillissimo Sul seggiolone A volte mi tocca prenderlo Un pochino in braccio Mentre la sorellina È ancora sul fasciatoio Ma oggi è andata Super super liscia Mettiamo questa maglietta Con il dinosauro Che ci piace sempre tantissimo Ecco Non so perché L'abbiamo utilizzata così poco È davvero super carina Ogni volta che la vedo Lì nell'armadio Penso questa Dovrei utilizzarla di più Ed eccoci qua Finalmente è arrivato Il momento di usarla Quest'anno vorrei cercare Per lui Un paio di scarpine beige O comunque Di un colore Abbinabile facilmente Perché comunque Non ha tantissime cose blu Per lui Che fatica A mettere questa scarpina Angus Ok Eccole qua Super sportive Vediamo Se anche Per i tuoi capelli Oggi non serve L'acqua Piccolo Stiloso Sì che poi Saranno così Giusto tre secondi Perché tra poco Saranno già A frangetta È vero Eh sì Ecco qua I piccolini Li ho sistemati Nel lettino Guardate Quanto sono carini Devo dire Che spesso Utilizzo la culla Anche come box Perché loro Sono ancora piccoli Quindi ci stanno Tranquillamente entrambi Semplicemente Tolgo le coperte Della notte E li lascio Giocare all'interno Così stanno anche al sicuro E non gattola Non giro per la casa Soprattutto Mentre la mamma È al telefono O sotto la doccia Io spero tantissimo Che questa morning routine Vi sia piaciuta Se è così Per favore Lasciate un like Condividete il video Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto E noi ci vediamo prestissimo Con tanti nuovi video Ciao A presto Ciao Ciao Ciao